aspetta che stanno facendo chi può essere negativo tu vuole essere migliacchia trrrr allora attenzione siamo qui per l'ultima domanda quella decisiva da 4 centesimi la segna posta aveva 13 anni attenzione signor perni è pronto sicuro vada i 4 centesimi sono tanti eh quindi si carichi bene si carichi bene allora ecco la domanda che segue l'ippocampo è un prima scusate dei problemi di regia l'ippocampo è un cavalluccio marino un cavallo adatto al lavoro nei campi un cavallo da corsa un campo magnetico positivo ehm 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 ehi dai che qua ci parla di soldoni eh un serbatorio marittimo ehm ehm il tempo sta a scorrere com'è la domanda ehm ippocampo vai che cos'è un ippocampo 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 sarà un campo dove si costruivano ippocampi ahahah eh cazzo no c'è stata domanda dove c'è stato campo ah si campo magnetico ma non dice rapotipo ma non è una cosa da no campo magnetico no da me gusta che cazzo è un campo magnetico ma che ne so tu fai fisica e io faccio un canzio io faccio un canzio ehm si stamattina ho fatto riflessione ma io che sto fatica eh ma io sto fatica questa è la prima pensata e poi davvero ahahah ippocampo ci sta कa 인�무 appena ma come so lo fa a casa che l'acca non a casa c'è stata forma la ce 내일 34 8 8 8 8 8 la spaventare ricordiamo che sono 30 secondi 30 secondi ma non è strano tu mi sei amato pronto no che buono dimmi brava sbagliare il pappagallo ah quello è pieno e cacchio mi torno cadetevi 30 secondi che vuoi senti che mi senti la domanda non la ricordo lippocampo vedete su mio laborario qualcuno che sta sotto la mezzo la cucina che sta sotto l'oroglio no parla piano nonna quella che sta tra stagnerò le tue cose e quella che sta tra stagnerò le tue cose quella fresca è stata stagnerata zaccichelli zappaterra zappaterra no 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 è Ehi! Ehi! Gli hai risposto? Mozzo! Mi stanno chiamando? Sì! Sì! Aggiusti sto fusibile! Fusosibile? E dove? Quello fa accendere gli sposti! Aspetta se cambi... Questo? Quella è la camaccia d'aglio! Dillo un po'! Dove sta quello? Per la nonna eh? No, 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 no! La città non è la città! Ma la città è la cuota! Come si sente! Beh, ho fatto! La città è la città! Ho finito la città! Io ti sei verrodo! Va beh... Vabbè... La nonna... Ah, no! Allora! Ma io ho trovato la vavvola, quelle vecchie stile! Quelle vecchie stile! Va beh, ti faccio poi quello stesso! Noi te! Si è accesu! ma c'è di questo però prima di curiamo il pulsante aspetta che volate a caldo ma canale 50 massimo massimo io non giusto per la linea tg5 che c'è ventana che rompe ma se fete sta male ma fai da 154 mannaggia se stavano male che sto girato mi sto mancato tutta l'orge che ma zoom imo funziona 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 si è acceso ebbè si è acceso si è acceso come sta andando come sta andando attenzione la musichetta si spange si spange abbiamo detto che l'ippocampo la domanda era questa mi hanno andato si vai vai c'è Sergio vai pianti dai attenzione l'ippocampo per 3 centesimi di euro 4 euro 4 ma me ne vado in banca 4 va bene 4 ma sta più in emozione se vogliamo rovina la risposta esatta capo non 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 no ecco ma